Più che una guerra ormai sembra una partita a risico, con alleanze non dichiarate ma palesi, che mirano un risultato comune, che per i partiti del centrodestra pugliesi e alternativi a Forza Italia sembra essere quello di mettere all'angolo Raffaele Fitto. L'ex ministro, forte delle oltre 280.000 preferenze alle europee, aveva lanciato per primo l'idea delle primarie per le elezioni regionali pugliesi del 2015, anche per il centrodestra, ma la coalizione potenziale che potrebbe parteciparvi si assottiglia giorno dopo giorno. A fine luglio le defezioni di Udc e nuovo centrodestra, qualche giorno fa la richiesta di una pausa di riflessione da parte di Francesco Scrittulli. Tre realtà che, soprattutto nella provincia di Bari, se presentassero un loro candidato alternativo a quello ufficiale della coalizione potrebbero sottrargli molti voti, probabilmente decisivi per la vittoria finale. E la conferma che l'obiettivo sia proprio quello di indebolire la posizione di Fitto arriva da un'intervista del senatore NCD Gaetano Quagliariello a un quotidiano locale, nella quale si parla esplicitamente di un accordo nazionale sulle riforme tra Forza Italia e NCD, che potrebbe essere propedeutico a un rientro nei ranghi degli alfaniani. Un accordo che dunque passerebbe da Berlusconi e non più d'affitto, accusato da Quagliariello di volere le primarie solo perché sicuro di vincere. Un messaggio recapitato giusto in tempo per la convention che Forza Italia terrà domani a Monopoli per lanciare le primarie del 23 novembre.